L'ultima che aveva trovato era la penna che l'Arcangelo Gabriello perdesse presso la camera della Vergine Madre di Dio. Il giorno in cui l'andrò ad annunziare di essere la frescetta, assomigliava in modo impressionante a una fiuma di piccola. Vedi così vestito perché il viaggio non voglio che mi notchino i briganti, anche se così non voglio che sono un figliolo di un procuratore. Ah sì, e poi ci da mare possiede, tanti insomma mia, così giorni che ti riempire, di tanto oro quanto pesi. Ah, allora mi dovrei spendere tanti di questi da mare, perché mi dovrei spendere anche i briganti da noi. E così, questa è la verissima costola del nostro Signore Gesù, quando fu messo in croce sullo porto. Ma ciò che ho di più prezioso è senza dubbio la penna dell'Arcangelo Gabriello, che mi ha donato lo padre messere patriarca di Centennebre, non mi biasimate se a voi mi piace. Ecco la penna miracolosa. E così, frate cipolla, aprì la scatoletta e dentro mi trovò l'incarbono. Poi, non c'è lo mio marito Alto Brandino. Ma? Ado! Ado! Alto Brandino, dov'è? Ah, son me! Le mando ormai il forso tuo e il pilletto. Ma che ci fa lo forso di pilletto a palla mia? Se lo indumento che ci si troglie una volta l'anno quando ci si lava, o quando si fanno i doveri coniugali. Paggia l'anima mia! Paggia l'anima mia!